Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Sul nord Italia la protezione di un campo di alta pressione allungato verso il nord Europa garantirà cieli sereni e clima mite. Allo stesso tempo però il centro-sud sarà interessato da correnti fredde di origine balcanica che scorreranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione. Si avrà così instabilità sotto forma di precipitazioni sparse e temperature in diminuzione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 11 marzo. Mattinata fredda con nubi che transiteranno veloci da nord sulle coste pugliesi nel primo entroterra ma senza rischio di precipitazioni. Al pomeriggio cieli limpidi quasi ovunque, qualche addensamento sul potentino. Durante la sera cieli stellati e sensazione di freddo maggiore. Le temperature risulteranno in calo nei valori minimi, stazionari invece le massime. Venti moderati o forti di tramontana, specie nella prima parte della giornata, che acquiranno la sensazione di freddo. Mari molto mosso agitato all'adriatico, mosso all'oionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo gli amici del Rifugio De Gasperi che ci delizzano con questo panorama innevato dalle vette del Pollino nei pressi di Piano Ruggio a 1535 metri di quota. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!